La Toscana è la miglior regione italiana per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza secondo i dati del 2019, mentre è al secondo posto per quanto riguarda la minor riduzione di prestazioni ambulatoriali offerte durante la pandemia di Covid-19 nel 2020. Due risultati importanti per la sanità regionale che sono stati illustrati dal Presidente Eugenio Gianni e dall'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. Per indicare i livelli LEA vengono valutati diversi parametri come l'assistenza collettiva, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera. Il livello d'eccellenza della sanità toscana da questi dati LEA emerge chiaramente con grande evidenza perché si tratta di indicatori che misurano i livelli di continuità assistenziale e quindi la presenza negli ospedali, la capacità di curare attraverso liste d'attesa più ridotte, la professionalità con cui si ottengono i risultati nei singoli reparti e nelle singole specialistiche. Insomma ne esce fuori un sistema sanitario pubblico d'eccellenza. Sia per quanto riguarda l'assistenza territoriale che per quella ospedaliera, la Toscana ha ottimi risultati con il raggiungimento e il superamento degli standard previsti come ad esempio la percentuale di bambini vaccinati per varie malattie come polio, tetano o epatite B. Uno studio di Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha evidenziato che la Toscana è seconda fra le regioni che durante la pandemia hanno perso meno prestazioni ambulatoriali tra il 2019 e il 2020, meno 24,2% mentre la media nazionale è del 30,33%. Inoltre la pandemia ha messo in campo strumenti che potranno essere utili anche nel post-Covid-19. Penso all'esperienza delle USCA, dei Giro, delle centrali di tracciamento, insomma tanto per citarne alcune, oppure all'implementazione delle strutture di cure intermedie e anche a un'accelerazione forte nella cosiddetta sanità digitale, compreso la telemedicina. Insomma ci veniva raccontato prima come in questi ultimi mesi si è assalita enormemente la capacità di fare ad esempio televisite, cioè visite a distanza. Ecco, questi sono elementi di innovazione che dovranno proiettarsi anche oltre l'emergenza Covid e dovranno diventare pratica corrente nell'attività del sistema sanitario.